E' il Novo Eroica Femini, forza sulle mani, applauso per i protagonisti, grandi emozioni qui a Buon Convento Aspetta ancora? Allora è il tempo di... Sulle mani, forza! Novo Eroica, Buon Convento, 18 luglio 2021 I punti erogici sono qui, allora abbiamo il tempo di andare via alle auto Franco vai pure in auto e ci siamo 5, 4, 3, 2, 1, buon divertimento il via da parte del sindaco Riccardo Conti Grazie amici, benvenuti a Eroica Femini Relattabile Forza, bravissimo buon divertimento buon divertimento a tutti abbiamo preso il via dal buon cometto domenica 18 luglio 2021 Mini Eroica Family Mini Eroica Family